Ciao Fabrizio. Ciao Francesca. Parliamo di sistemi di comunicazione unificata o Unified Communication per la piccola e media impresa. Sì, oggi lanciamo l'UC300, che è la piattaforma più piccola della famiglia di comunicazione unificata Cisco, che è stato pensato appositamente per le piccole e medie imprese, integrando servizi voce, dati e wireless. Quali caratteristiche presenta UC300? UC300 è una piattaforma pensata per quelle imprese che hanno da 4 a 24 dipendenti, integra funzionalità di connettività per rete locale, ha uno switch gigabit power over Ethernet, ha la possibilità di essere collegato alla rete telefonica tradizionale, ad Internet, ed ha la possibilità di collegarsi ai fornitori di telefonia via Internet attraverso il tracking SIP. Perciò coloro che usano questa piattaforma possono utilizzare le reti telefoniche tradizionali oppure Internet per collegarsi con il resto del mondo. Il costo di questo prodotto è anche particolarmente competitivo? È una piattaforma particolarmente competitiva, pensata anche per le tasche delle piccole e medie imprese, perciò ha un prezzo per utente che è tra i più bassi tra le piattaforme Cisco oggi disponibili sul mercato, e attraverso i servizi finanziari Cisco può anche essere acquistato a un semplice prezzo per utente al mese. In più la piattaforma è naturale che viene posizionata per essere utilizzata come strumento per usare Internet come cuore del proprio business e si integra con tutti gli altri dispositivi Cisco per le piccole e medie imprese, i sistemi di sicurezza, sistemi wireless, altre piattaforme di switching ed eventuali ulteriori gateway di Cisco di terze parti. Quindi tutti i vantaggi e le caratteristiche di fascia alta, ma adattate alle necessità e alla realtà di una piccola e media impresa. Utilizza protocolli standard di comunicazione, perciò si può integrare con il mondo esterno ed è particolarmente indiricato per soluzioni di telefonia via Internet. Bene, parliamo anche di supporto e assistenza per lo small business. Certo, il prodotto è facilmente installabile e configurabile, ma per offrire ai nostri clienti la possibilità di essere sicuri che la loro soluzione funzionerà sempre al meglio, c'è la possibilità di acquistare dei servizi che estendono la garanzia del sistema fino a tre anni, offrendo la sostituzione delle parti difettose al giorno successivo alla chiamata, fornendo tutti gli aggiornamenti software che permettono a questa piattaforma di crescere nel tempo e l'accesso ai servizi di supporto via chat o attraverso la small business support community. Perfetto, grazie Fabrizio. Grazie Francesca. Grazie.